Mi avevano portato via la macchina e mi hanno costretto poi a guidarla. Non è stata colpa mia per quell'incidente avvenuto a Camerago. Si era giustificato più o meno con queste parole. Inizialmente il ragazzo lodigiano di 29 anni, fermato a Castel San Giovanni dai carabinieri e sospettato dell'incidente, costato il ferimento ad otto ciclisti. Incidente, lo ricordiamo, avvenuto sabato pomeriggio alle 14 a Camerago. Messo poi alle strette dai carabinieri, ha confessato questo giovane e ha raccontato di essere sotto effetto di sostanze stupefacenti, confermato anche dagli esami e ha raccontato quindi di aver fatto questo incidente, di non essersi reso immediatamente conto dell'accaduto e di aver pensato solo a scappare. Ha trascorso un'intera notte nelle campagne, ha abbandonato la macchina e nella mattinata di domenica è stato trovato dai carabinieri che circolava a Castel San Giovanni fermando passanti per chiedere denaro. Condotto in caserma, è messo alle strette e alla fine ha confessato ed è stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria con l'accusa di lesioni gravissime e guida sotto effetto di stupefacenti e condotto in una cella delle novate. Da parte dei militari della stazione ci è voluta molta pazienza e molta anche poi successiva collaborazione da parte di questo ragazzo per riuscire a chiarire queste dinamiche che inizialmente sicuramente apparivano molto confuse, con tanti lati da chiarire e da riuscire a portare alla luce.